Gli avversari riconquistano la palla e dà la prova del suono, palla sul palo e poi lo protraversa, palla ancora in gioco, rimbalzo Fabio, palla che termina a fondo campo sarà rimessa, chi giocata ed eccolo e il tiro finisce a lato, splendida giocata, attenzione solo, fantastico che tecnico, si palla sul palo!